In compagnia del presidente del Roseto Sharks, Antonio Norante, che ho il piacere di rivedere dopo un po' di tempo. Come va? Va bene, abbastanza bene. Vanno benissimo le cose al Roseto, serie A2, salvezza aritmeticamente centrata, valorizzazione dei giovani, che direi è un aspetto molto importante da sottolineare, ora però si pensa al futuro. Sì, noi abbiamo voluto mettere un punto fermo, cioè ricordare a tutti gli sportivi, tifosi, a quelli che ci seguono, che il nostro obiettivo era la permanenza in serie A2. L'abbiamo centrata, addirittura erano 5 giornate di anticipo, e l'altro obiettivo era la valorizzazione dei giovani, che sono riusciti a valorizzarsi, ci sono dei prospetti NBA addirittura, quindi in mezzo a questi ragazzi, che hanno, grazie alle esperienze in A2, sono cresciuti enormemente, ma si vede già dalle prime partite di campionato a quelle che si svolgono adesso. Gli obiettivi sono stati raggiunti, adesso si apre una fase nuova, speriamo che tra l'altro, nel ringraziare anche gli sponsor, i tifosi, gli sportivi, si possa ampliare questa schiera, e soprattutto di riempire di nuovo il palazzetto dello sport come si faceva una volta, che tu ricordi bene. Come no, ricordo perfettamente, anche perché io l'ho sempre detto, Roseto è la culla del basket in Abruzzo, non me ne vogliono le altre realtà, però è la storia che parla in modo molto eloquente. Ecco, abbiamo detto della valorizzazione dei giovani, che è un aspetto importantissimo, se non fondamentale da sottolineare, per una società come Roseto, questo significa che la collaborazione con la Stella Azzurra ha dato i suoi frutti. Certo, questo è un accordo biennale che aveva questi obiettivi, gli obiettivi sono stati raggiunti, adesso si potrà solo migliorare. Tra l'altro è un accordo di cui parla tutta la pallacanestra italiana, tutti hanno parlato di questo accordo, molti magari vorrebbero riproporlo, ma penso che questo sia difficile, perché noi, squadra di A2, con una realtà come la Stella Azzurra, che è al top dei settori giovanieri, è difficile riproporre un binomio di questo genere. Noi siamo molto contenti di questo e poi abbiamo superato anche tutte le contestazioni, che è stato anche lo scetticismo iniziale, adesso molti si sono ritreduti e spero che adesso si riavvicinino tutti, anche quelli che si sono allontanati. Noi cerchiamo di ampliare la nostra agitazione, anche per quanto riguarda, dicevo prima, di sponsor, perché c'è bisogno di tutti. Considere che la nostra è una società che spende 6, 7, 10 volte meno di quello che spendono le altre società, con cui ci confrontiamo e con cui abbiamo anche vinto. Tra l'altro la media del roster sfiora i 23 anni. Sì, considerando che abbiamo Piericci, che è il senatore, gli altri tutti ragazzi del 99, del 2000, 2002. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di ragazzi che devono fare le loro esperienze e questo per noi è molto importante, perché poi insieme a questo discorso noi abbiamo chiesto alla Stella Azzurro di collaborare per il nostro settore giovanile. Noi adesso abbiamo dei ragazzi che vengono un po' da tutta Europa, oltre a quelli nostri, quei locali, anche italiani e anche abruzzesi, e su cui stiamo lavorando, perché anche noi vogliamo utilizzare il loro know-how per crescere dal punto di vista del settore giovanile. La sinergia, devo dire, è stata virtuosa fino a questo momento e lo sarà anche negli anni futuri, noi ve lo auguriamo. Tornando allo scetticismo che è stato, in un certo senso, e ci fa piacere, superato da parte della frangia calda della tifoseria, però era anche comprensibile, se vogliamo, Presidente, perché la tifoseria vuole un contatto quotidiano con i propri beniamini. È chiaro che questi ragazzi fino al giovedì stanno a Roma. Sì, però il timore che molti paventavano era che la proprietà di questa squadra, oltre, passasse di mano. La proprietà della squadra è di Cimorosi, di Cianchetti, che sono i due soci. La proprietà è locale, la squadra gioca a Roseto, la squadra porta lo sponsor rosetano, la squadra si allena il venerdì e sabato, anche perché, vorrei fare un paragone un po', però non penso che i tifosi interisti siano preoccupati che la squadra è dei cinesi. Se l'Inter andasse a giocare a Pechino, può darsi pure, ma se l'Inter gioca a Milano e la squadra è su un Indy, invece di essere di Moratti, tifosi, a loro interessa che la squadra gioca a ottenere dei risultati. Nel nostro caso la squadra non è dei cinesi, è dei rosetani. D'altra parte, se tu vieni a vedere gli allenamenti quando stanno qui, ci saranno due o tre persone. L'importante è che allo sportivo l'interesse della squadra giochi a Roseto, porti il nome di Roseto, che è un'importante anche promozione turistica per l'Abruzzo e per Roseto, perché noi andiamo a giocare in mercati turistici classici delle nostre zone. E poi la proprietà è certa e consolidata. Noi abbiamo fatto il possibile, abbiamo cercato di tranquillizzarli, ma i risultati hanno tranquillizzato i sportivi tifosi. Per cui speriamo che ci sia i riavvicini, ne vengano tanti altri, perché stiamo allargando anche le altre realtà abruzzese, non solo limitrofe, dove c'è e si fa pallacanese, cercando di invitare i giovani a venire, le scuole. Stiamo cercando di fare un progetto che possa essere condiviso da tutti. Ecco, Presidente, a parte gli sponsor, c'è la possibilità di coinvolgere, sensibilizzare anche altri imprenditori? Certo, noi stiamo cercando di sensibilizzare tutti quelli che hanno a che fare con lo sport, anche perché c'è questo problema di fondo, molti imprenditori non si rendono conto della potenzialità che ha lo sport. Io voglio solo ricordarvi, ancora ci ricordiamo, si ricorda la Covergins che sponsorizzò il Roseto nell'82, si parla ancora della Gis, si parla della Sicivondole, cioè si parla ancora di quelle realtà che hanno sponsorizzato la squadra e che è andata in giro per tutta Italia a portare questo marchio e a farlo riconoscere a tutti. Noi adesso sensibilizzeremo anche l'amministrazione comunale e anche la regione Abruzzo. Vorremmo riprendere quel progetto di 15 anni fa, in cui l'Abruzzo sponsorizzò tutte le squadre che partecipavano ai massimi livelli dei vari campionati. Stiamo cercando di coinvolgere anche altre realtà sportive, perché penso che portare in giro il nome dell'Abruzzo, di Roseto e anche come promozione sia un altro ritorno economico per la città e per la regione. Le faccio l'ultima, blindata la salvezza, la squadra è in piena zona playoff, si può fare? Noi ce la giochiamo tutta, a partire da domenica, perché tutti ci danno spacciati a Treviso, ma noi abbiamo combattuto contro Bologna, abbiamo perso i tempi supplementari, a Verona tre tempi supplementari, noi giochiamo le partite con tutti. Siamo in grado di vincere con tutti, però la squadra è anche giovane, per cui potrebbe anche perdere con tutti. Però mai dire male, è il bello dello sport. Quello assolutamente. Grazie a tutti.